del viso gli occhi con latte di amena o latte di cocco sull'altra no bene ciao ciao eh sì c'è caldo lo so lo so perfettamente esatto esatto c'è caldo anche in questa stanza ma oggi andremo a fare un trattamento per raffreddarti con alcuni prodotti alcuni cibi bevanti e abbiamo scelto di mantenere questa stanza a temperatura ambiente perché se non avessimo raffrettata in modo artificiale ovviamente l'effetto dei prodotti risulterebbe troppo freddo no? avresti già freddo al corpo e inoltre vorrei pian piano diminuire la tua temperatura e rinfrescarti e farti sentire questo sollievo in confronto alla temperatura che ti circonda bene intanto ti do il benvenuto nella mia spa rilassante e ti ringrazio per aver scelto appunto questo trattamento che è nuovo è un nuovo nostro servizio quindi io comincerei subito facendo di scegliere la bevanda e il cibo che vorrei gustare durante questa sessione di raffreddamento abbiamo un menù e ci sono diverse scelte tra le bevande puoi scegliere un infuso di limone e zenzero fatto in casa da noi con i limoni costitati da noi da zenzero no? ovviamente è freddo, fresco, con il ghiaccio abbiamo poi un infuso, un'acqua aromatizzata molto particolare che ho assaggiato personalmente in Giordania e che penso sia tipica comunque di tutto il Medio Oriente che è un'acqua molto fredda tritata con la menta quindi diventa questa acqua con menta tritata finemente molto particolare devo dire non per tutti ma se si è fan della menta stupenda, molto rinfrescante terza opzione ho del caffè chiacciato con latte di amena o latte di cocco puoi scegliere tu ok? l'infuso di limone e zenzero è buonissimo ho sopravvissi tante e come mangiare? puoi avere una varietà di frutti anguria, melone, mirtilli, lamponi anguria stupendo fantastico allora vado a prepararti tutto e te lo porto qui intanto rilassati e preparati a questo trattamento che evitati ti rigenerà rigenerà rigenererà completamente rigenererà completamente rigenerà 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 rin 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 eccoci qua questo è l'infuso è stato fatto da dell'acqua noi mettiamo dentro appunto dei limoni dello zenzero fresco e dell'acqua calda e quando si raffredda il tutto ci mettiamo il ghiaccio sentiamo se vuoi ti metto un pochino più di ghiaccio ok mi ricco si non ci sta ma scorbino è tutto tuo già che ho il ghiaccio qui fammi mettere il ghiaccio anche nella faccinella con l'acqua che andrò ad usare fra pochissimo poi ti ho portato anche la furia con uno spiedino anche tu dovrei fare gli spiedini di frutta certo se dopo vuoi te li posso fare con qualsiasi frutta però ti ho visto particolarmente entusiasta con l'anguria eccolo qua e questo è tutto tuo tutto tuo ve l'ho appoggiato di fianco al tuo drink adesso ti avevo chiesto di arrivare con il viso pulito ok e oggi andremo a rinfrescarlo e andremo ad applicare una maschera molto particolare adesso ti farò vedere e poi andremo anche a trattare dei punti in cui vedo che hai già delle bruciature perché mi sembra che hai in punto di esposizione al sole magari non hai messo la crema uniformemente magari non hai messa abbastanza però vedo che hai delle scottature le andremo a trattare quindi andremo a tamponare e quindi andremo a trattare dei punti in cui vediamo il tuo viso il tuo viso con questa spugna molto morbida molto soffice e piacevole sulla pelle e quindi andremo a trattare dei punti in cui vediamo il tuo viso ok tamponiamo un pochino la fronte poi i lati del viso chiedi gli occhi il mento, il collo si l'acqua con cui hai bevuto è molto fresca ok tutto il collo ancora un giratto so che è particolarmente piacevole ok 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 fantastico ok 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 adesso adesso dopo averti rinfrescato il viso voglio applicarti una maschera un pochino particolare te la faccio vedere te la faccio vedere è questa questa è una maschera tonificante effetto freddo si è gialla è stupenda veramente questa l'ho provata per la prima volta in pieno inverno ho detto no aspetta la riprovo d'estate l'estate è una goduria e con menta, zenzero e agrumi maschera viso dall'effetto freddo a base di ingredienti con proprietà tonificanti, reagizzanti e rinfrescanti ideale per conferire tono, compattezza ed elasticità a tutti i tipi di pelle soprattutto quelle più rilassate applicare su belle pulita e asciutta tenere in posa 15 minuti e riesce a cuore bene allora te lo faccio vedere vedi è di questo colore stupendo 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 mi metto un'allegria incredibile e vado a stenderla su tutto il tutto evitando ovviamente contorno occhi ok e labbra per il contorno occhi ci penseremo spiuto dalla maschera ok quindi rilassati rilassati bellissimo questo tutto allora dovresti già iniziare a sentire questo famoso verto freddo però ti assicuro che lo sentirei bene fra un minuto o due lo sentirei proprio proprio bene ok vado un pochino anche ai lati e anche sul collo per accentuare ancora di più e per aumentare il contrasto tra il caldo che senti e il fratto che senti sulla pelle ok andrò e vado a sventagliare un pochino anche il corpo in generale e quindi è fantastico è fantastico andrò anche vado a sventagliare anche tutto il corpo e anche sombra è piacevole anche per me che lo sento di fatto sì, è un ventaglio di carta secondo me è molto bello tra l'altro anche volendo la mettere come decorazione quanto è piacevole e quanto è anche ci si sente quasi in un'altra epoca a fare questo gesto ormai siamo tutti elettricità ma com'è il vento creato da un ventaglio? bene, adesso lo senti il freddo stupendo adesso vado sugli occhi invece di evitato ad applicarti una maschera occhi e anche un qualcosa di molto naturale che ti andrà a rinfrescare anche questa zona e anche a sconfiare vado a usare questa maschera occhi occhi energizzante non so te ma io d'estate dormo malissimo dormo molto poco perché fra zanzare natura anche che si sveglia molto presto all'alba non il caldo che mi prende e mi sveglia in mezzanotte e non riesco neanche a dormire quando è recondizionata che posso evitare anche neanche col ventilatore proprio così è basta quindi anche io li uso andiamo a mettere questo patch ok molto bene e vado ad applicare anche l'altro molto bene vado a massaggiarmi sulle mani le cessa e vado a coprirti gli occhi con il cetriolo due belle fette di cetriolo che vado ad applicare sui tuoi occhi una e due e noi ci vediamo fra 15 minuti ok com'è stato? ho voluto lasciarti stare lasciarti godere questi 15 minuti in silenzio e in pace perché avrei potuto metterti l'aloe sulle scottature da sole ma trovo che il momento in cui sei ad occhi chiusi ti godi questa sensazione sia già abbastanza non volevo sovraccaricare perché il tuo senso del tatto e la tua sensibilità quindi andiamo a togliere anche il patch ok ok e vado a prendere l'aloe da metterti sulle scottature non so se tu la utilizzi probabilmente si è abbastanza conosciuta l'aloe vera l'aloe vera ha proprietà lenitive principalmente io la uso anche a volte sulla psoriasi se è lievissima sulle bruciature da sfregamento che mi vengono quando faccio sport e soprattutto sulle bruciature da sole che quelle che quelle anche stando attenti a volte difficili a evitare questa è dei provenzali il gel tale questo è il 98% è molto affascinante secondo me perché è tutto trasparente ed è stupendo estremamente fresco naturalmente e vado ad applicartene poco a poco prima sulle spalle qui vedo una bella bruciatura sull'altra sull'altra ok facciamo neanche un bel massage adesso vado su entrambi i lati un pochino al sale prozzo ok sotto sotto le ascelle ok perché sì in questa zona è facilissimo è facilissimo scontarsi veramente ed è anche super sensibile come zona quindi bisogna stare particolarmente attenti anche a metterci della crema solare lo metto ancora un po' io vado anche sull'avambrazzo ok prima uno e poi anche l'altro non ti preoccupare si si asciuga abbastanza in fretta basta metterne una quantità non esagerata e spalmarla bene ok quella nel giusto vado metterla su di me altrimenti mi si appiccicano tutte le mani ok è un po' sticchi però fa veramente meraviglioso adesso prima di applicarti l'aloe sulle bruciature andiamo a togliere la maschera si sempre con la spugnetta si sempre con la spugnetta ok vieni qui ok 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 ora ok e ok ok ci vuole un po' a toglierla perchè bisogna toglierla bene come gli è sembrata? pazzesco! ha un effetto freddo incredibile quasi l'altro perfetto ok l'ultimo step è quello forse il mio preferito è uno step, è un prodotto che uso più volte al giorno e che trovo un must in estate veramente sempre in borsa, sempre la versione mia, la versione maxi sempre che sto parlando non 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 a presto questa è l'acqua termale di Aven è un trattamento termocosmetico quindi proprio è più di cosmesi infatti lo si vende, lo vendono in farmacia la vaporizzazione lenitiva si usa per il ritmo solare arrossamenti del viso, arrossamenti dei glutei del neonato dopo rasature, dopo depilazione, simile all'aloe la vaporizzazione invece di comfort e freschezza per completare lo strucco attività sportiva in estate, in piazza poi nella spargassante veramente straconsigliata per me questa è la migliore ci sono diversi spray questa è anche in odore quindi secondo me è molto più adatta perché io ne avevo una molto valida sapeva di cocco però può dare fastidio a qualcuno quindi la mettevo sull'incastro sola ok degli occhi ok anche sul corpo me ne spruzzo un po' anche io perché è meraviglioso colpo sul petto sul petto è piacevolissimo e con questo finisce questo trattamento rilassante ideato per raffreddarsi pian piano e uscire rigenerati spero davvero 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 col cuore ti sia piaciuto perché è ancora un piccolo esperimento per noi l'abbiamo fatto su poche persone e l'abbiamo provato ovviamente su noi stessi prima e ci è piaciuto così tanto che non vedevamo l'ora di proporlo però se vai a giarci anche una recensione sarebbe veramente stupendo stupendo e poi se vorrei prenotare un appuntamento per un'altra terapia ne abbiamo veramente tantissime questo inverno stiamo pensando stiamo sviluppando un trattamento invece al contrario per riscaldarsi gradualmente quindi spa per affrontare il freddo e sarà più o meno uguale ma al contrario e e se ti fa piacere veramente se ti è piaciuto questo penso ti piacerà anche quella ma la stiamo ancora testando un pochino uscirà secondo me a ottobre anche novembre bene perché vogliamo il caldo forte io ti ringrazio davvero tanto anche della tua gentilezza e dei sorrisi e il tuo viso rilassato mi dice già tutto io ti mando un apprezzo ti auguro una splendida fine di giornata e noi spero ci vedremo presto ciao